Ricordate ragazzi quando vi ho detto che il Don deve prendere l'aereo perché l'Italia non è più buono ed eccomi qua con mio fratello Facciamo duro e serio in tempo Generale numero uno Non parla proprio Quello duro che non mi prendete più Voi mi hai detto? Ah fai qua Sempre fermati Però Don prega un cazzo non scenda Sono le nove di sera ragazzi Sono qua ancora bloccato in questa città che devo andare a prendere l'aereo con mio fratello Ma lo hanno chiuso qua in macchina e non vogliono più uscire Adesso che è chi è sbattuto la porta Dopo cosa credi di fare? Lascia il nostro amico che abbiamo l'aereo e che dobbiamo andarcene a fanculo Oh, arabe Affermativo, passo Grazie a tutti Ok Ciao Ciao Grazie a tutti